buongiorno a tutti volevo darvi degli aggiornamenti adesso faccio passare qualche secondo due argomenti fotovoltaico e poi l'eco bonus gli interventi antisismici e di detrazione antisismici e di efficientamento energetico lascio passare qualche secondo vediamo se il collegamento funziona allora buona giornata a tutti buon lunedì allora due sono gli argomenti di cui vi voglio parlare brevemente quest'oggi per darvi gli ultimi aggiornamenti parto dal primo che è più se il più semplice in realtà sul primo non vi do aggiornamenti ma cerco di diffondere la notizia perché parlando con gli interlocutori con gli stakeholder con i professionisti mi sono reso conto che la notizia è ancora poco conosciuta allora parliamo del fatto che per le aziende e i libri professionisti che vogliono installare del fotovoltaico è disponibile la tec l'opzione la facoltà di portare in ammortamento un valore superiore del prezzo di acquisto dell'impianto superiore del 30 per cento questo è conosciuto come iper ammortamento 130 per cento quindi se per esempio volete installare un fotovoltaico e vi costa faccio una cifra semplice 10 mila euro voi in realtà lo contabilizzate a 13 mila euro e quindi le varie quote di ammortamento che potete portare in bilancio in detrazione dei redditi sono superiori e vi consentono di rientrare più velocemente dell'investimento vi lascerò un link su questo l'importante è sapere che è disponibile per aziende e libri professionisti e non c'è un limite all'importo finanziabile nel senso che potete installare un piccolo impianto da 5 6 10 kilowatt ma potete anche tranquillamente salire di potenza e quindi per le aziende che hanno bisogno energetico rilevante discreto insomma che la bolletta elettrica incide sui loro consumi sappiate che fino al 31 dicembre di quest'anno o anche il 30 giugno dell'anno scorso scusate dell'anno prossimo il 30 giugno 2019 potete appunto approfittare di questo iper ammortamento 130 per cento l'importante è che entro il 31 dicembre abbiate versato il 20 per cento della spesa di acquisto quindi questa è la cosa più semplice appena finita la diretta vi lascio il link con alcuni siti che ribadiscono e vi danno i dettagli io vi ho detto la cosa la cosa sostanziale 130 per cento libri professionisti aziende soggetti titolari di reddito di impresa professionisti con reddito di lavoro autonomo anche svolto in forma associata ivi compresi i contribuenti nel regime dei minimi in buona sostanza gli unici esclusi sono i contribuenti che sono in regime forfettario e le imprese marittime questi sono gli unici esclusi tutti gli altri possono appunto approfittare 130 per cento di ammortamento e vi ribadisco non ci sono limiti di potenza o naturalmente ognuno di voi farà le sue valutazioni io ricordo sempre basta che prendiate in mano una qualsiasi bolletta che il costo dell'energia vero e proprio è inferiore al 50 per cento il resto sono oneri tasse accise varie quindi capite bene che autoprodurre e autoconsumare energia vi dà un grosso vantaggio ultima cosa ma questa naturalmente la potete verificare con qualsiasi installatore di fiducia il costo al kilowatt ora scusate il costo al kilowatt il costo al kilowatt per un impianto fotovoltaico ormai si aggira tra i 1500 e 2000 euro chiavi in mano e naturalmente man mano che si sale di potenza se io faccio impianti più grossi questo costo scende un pochino quindi se io installo 5 kilowatt mi può costare appunto 1500 2000 euro a kilowatt ma se io ne installo 20 40 60 ecco che questo costo scende un po e quindi naturalmente c'è l'economia di scala bene questo per quanto riguarda il fotovoltaico iper ammortamento ribadisco molte aziende non lo sanno molti professionisti non lo sanno per cui vi pregherei magari di diffondere un po la notizia fa risparmiare diversi soldini vi permette dire più che altro di rientrare dall'investimento più velocemente e quindi poi sono sono guadagni perché ribadisco autoconsumarsi l'energia prodotta sul proprio tetto naturalmente l'energia vi costa la metà la metà rispetto che acquistarla sul mercato perché appunto non avete tutta la parte di oneri e di tassazione quindi è un'energia che vi costa la metà per questo è importante che quando tarate la potenza dell'impianto la tarate sul vostro effettivo bisogno in maniera che la consumiate diciamo tutta tutta quella che producete bene questo per quanto riguarda il fotovoltaico adesso andiamo all'eco l'eco bonus l'eco bonus quindi la detrazione fiscale per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico negli edifici allora qui ci sono alcune più che novità diciamo sono le spiegazioni nel dettaglio perché non era chiarissimo ora dell'agenzia delle entrate ha fatto una circolare in cui appunto dettaglia quella che era diciamo la disposizione di legge allora intanto in breve in breve allora si può cedere il credito e questo lo possono fare tutti si può cedere il credito fiscale e questo lo possono fare tutti con la differenza che chi è incapiente chi è incapiente quindi rientra nella cosiddetta no tax area lo può cedere anche alle banche istituti finanziari quindi attenzione tutti potete cedere il credito fiscale della detrazione fiscale però solo gli incapienti possono cederlo a banche istituti finanziari tutti gli altri invece lo cedono al fornitore che costruisce quel che fa effettivamente l'intervento agli altri appartenenti eventualmente al condominio a consorzi alle esco anche in questo caso vi lascio dei link con tutti i dettagli e l'altra cosa importante è che adesso la cessione non è limitata ai condomini per interventi alle parti comuni dei condomini ma la detrazione fiscale può essere ceduta anche per gli interventi su singoli immobili quindi non è stata non è più limitata solamente ai condomini ma può essere utilizzata anche da tutti gli altri da appunto da chi vive su immobili singoli villette a schiera qualsiasi altra tipologia appunto di immobile altro piccolo dettaglio dopo che il beneficiario del credito l'ha ceduto può esserci solo un'ulteriore cessione e quindi questo è stato fatto per evitare che venga cartolarizzato eccessivamente e diventi un qualcosa su cui eventualmente si crede la speculazione quindi il beneficiario lo cede o al fornitore o a un altro soggetto dopodiché può esserci solo un'ulteriore cessione allora questo in breve adesso vedo se ho due link che poi vi do questo l'ho detto la cessione questo l'ho detto poi c'è una seconda una secondo secondo link ecco sì vi metterò il link al documento ufficiale dell'agenzia delle entrate in cui fornisce una serie di chiarimenti una serie di chiarimenti appunto su come deve essere interpretata la norma di riferimento poi questa cosa viene fatta anche per l'ho detto per il sisma bonus quindi gli interventi di consolidamento antisismico ecco sul sisma bonus questa cessione del credito è consentita attenzione solo per interventi incisivi effettuati sulle parti comuni di edifici condominali ubicate in zone sismiche 1 2 e 3 oppure per l'acquisto di case antisismiche in zona 1 anche in questo caso vi lascio il link e quindi potrete leggere con i vostri occhi quello che vi ho appena detto ricordiamo che mentre l'ecobonus per interventi di efficientamento energetico al 65 per cento quello per gli interventi antisismici si va da 75 all 85 per cento quindi veramente una grossa detrazione l'accessione può essere fatta l'ho detto a consorzi a energy all'esco le energy service companies anche alla società anche alle società di servizi energetici e ribadisco solo gli incapienti possono cederlo a banche e istituti finanziari ultima notizia per chi invece no non per chi invece per chi è anche associato ance associazione nazionale costruttorielli quindi riservato agli associati uno strumento agevolativo hanno predisposto una piattaforma internet nella quale potete accedere e vi darà tutti i dettagli e una prima consulenza per capire come eventualmente procedere quindi è una piattaforma che in buona sostanza raccoglie la disponibilità da parte di potenziali investitori di acquistare questi crediti fiscali e voi associati ance potete inserire le vostre proposte di cessione di crediti e poi ci sarà un'assistenza nel definire il rapporto contrattuale le modalità il prezzo di acquisto appunto tra il cedente e l'acquirente bene vi lascio naturalmente adesso il link di approfondimento e sono notizie che se ritenete interessanti fate circolare possono dare una grossa spinta da un lato l'ho detto all'inizio per il fotovoltaico per produrre da sé la propria energia elettrica e in questo caso per l'edilizia sappiamo quanto abbiamo bisogno di irrobustire i nostri edifici in termini in termini di appunto resistenza antisismica e quanto abbiamo bisogno di migliorare la loro efficienza energetica visto che attualmente sprecano il 60 per cento mediamente 60 per cento dell'energia quindi si può diciamo così dimezzare la bolletta energetica con un buon intervento intervento di efficientamento energetico quindi se avete piacere diffondete questa notizia e nei prossimi giorni ve ne darò altre su altri argomenti intanto grazie a tutti buona giornata buon pranzo per chi sta cenando e arrivederci alla prossima ciao